Musica Che ne pensi di Batman interpretò da Amadeus? Che? Oggi sono stato interrogato in storia e ho preso 8 Bravo! Proprio inutile, brutto parli del diavolo! Basta adesso però un boccone enorme E niente ragazzi, la live stasera va così E' giusto che ogni tanto la live vada anche... Chi sei tu? Io, sono Yukio Yukio? Come? Yukio? E' un po' di più E' un po' di più Ho imparato l'alfabeto Guarda sono commosso, sono commosso Ma queste cose mi fanno... Mi fanno emozionare Mi fanno emozionare queste cose Tanti auguri... La fietto! E sono dieci, festeggiamo! E non me ne frega un cazzo! Io a questo film gli do un dieci Non me ne fanno... Madonna che cazzata! Porca puttana! Mamma che cazzata! Porca due ragazzi! Mamma questa è stata forte! Aiaiaiaiaiaiaiai Secondi io, Spider-Man! Meglio Spider-For-From o Venno al Filo di Carnage? Meglio un dito nel culo Questo è tutto ciò che resta del mio popolo Fuso dai loro beni Strappato dai loro denti Klaus Schmidt Ma ho continuato Ho cercato di... Di andare avanti Ad un certo punto Non ho più usato mezze misure Sono diventato rabbioso Peter, non dirlo Erwin Poi là Oh oh Spider-Man, Spider-Man Spider-Man No scherzo Ce n'è un altro Jane Trova Peter Parker Non c'è quel coso sulla sua mano? Trova Peter Parker Ma per torno Non ci posso credere E torna Allora mettiamo le corna In testa Alla capra Poi Mettiamo la testa Tra una parte del corpo E l'altra Facciamo attenzione Momento delicato Ed ecco qui ragazzi Il nostro caprone E' pronto A dare testate Che manco Zidane Ma va a cacare Certo Io vado a letto Eh vai va Tu hai proprio bisogno Di un bravo terapeuta Sì Ce l'avevo Ma Mi C'è Basta con le cazzate Erfain ragazzi Erfain in tendenza Che succede? E' un po' Perfetto Perfetto Va benissimo Così Non c'è bisogno Di aggiungere altro Jackson E' lei Il parente misterioso? Mi hai fermato una volta Ma non mi fermerai di nuovo C'è bisogno Che roba Potrebbe sembrare strano Ma Sto cercando il vostro amico Da quando sono arrivato qui Ho questa sensazione Che abbia bisogno Del mio aiuto Il nostro aiuto? No Ha detto il suo Ahà Steven Ma non ho fatto niente Oscorp Non esiste Mio figlio Mio figlio Incredibile Qua è normale O salata? Ma Ma Qualcring Ma Ma che fa Va a cagare Ma Visto che è un calamaro Ma che cazzo vuol dire? Dicevo Ehm Ma perché mi sta andando a via la voce? Porco Ok Mi sono ripreso Vedi? Così Così se l'hai messo sto cazzo di costume Così Così Questo è il costume Di Spiderman Così se l'hai messo Cioè Vi pare una cosa normale? Vi pare A me non pare una cosa normale Con l'etichetta dietro Cioè Non è normale Non è normale Ma lo sai che Su fandom Può acquistare magliette Che ti arriveranno a due mesi? Ma non è vero ragazzi Questa cosa che mettete Stiarino fra due mesi È successo soltanto Nel periodo di Natale Dai A meno che Non abitate Nel buco del mondo Nel culo Ma Che cazzo Ciao